LE ENERGIE DELLA NUOVA TERRA MARZO 2012 La nuova Terra. Multidimensionale prende forma. L'Arcangelo Michele attraverso Celi e Affena. Amata famiglia di luce, vi salutiamo ancora una volta con grande gioia mentre vi avvicinate al primo equinozio del 2012. In effetti le cose stanno cambiando sempre più velocemente sulla Terra e le prime nuove energie della nuova onda di luce del 2012 iniziano a farsi sentire. Molti di voi possono sentirsi un po' giù mentre aspettano la nuova onda di energia ed osservano gli eventi sulla Terra in questo momento, soprattutto in Medio Oriente. Tali eventi non sembrano certo vicini e gli ideali di pace ed armonia che avete. Amati, sappiate che tutto è in ordine divino e nel flusso della creazione, le energie del cambiamento si stanno muovendo in avanti. La Terra è pronta per riconnettersi con l'ottava e la nona dimensione di luce, i consigli dei custodi della Terra ed i consigli degli anziani, che saranno responsabili della nuova Terra, sono in corso di formazione e stanno nascendo. Sì, amata famiglia di luce, dopo il 2012 ed il passaggio della Terra attraverso il portale di luce a dicembre, la Terra sarà affidata a quelli di voi che saranno scelti ed eletti al primo consiglio dei custodi della nuova Terra ed al suo associato consiglio degli anziani. Questi esseri entreranno nell'ottava e nella nona dimensione dove lavoreranno con i consigli solari ed i consigli galattici di luce. Alla fine, la Terra prenderà il suo posto come stella di luce ed il suo percorso evolutivo sarà determinato dalla volontà divina, dall'intelligenza creativa divina e da coloro che seguono la volontà divina. Vi chiederete come tutto questo sarà possibile dato lo stato della politica sulla Terra oggi. Diciamo semplicemente che la nuova Terra multidimensionale si sta formando e che le vecchie energie di conflitto e dualità avranno poca rilevanza nel futuro, che si sta già manifestando. La frequenza della dualità e del conflitto appartiene al vecchio mondo tridimensionale e sta svanendo. La nuova Terra di quinta dimensione è basata sul flusso, l'armonia e lo spostamento dalla polarità all'unità. Gli esseri umani più evoluti nella vostra società terrestre cercano di portare la polarità verso l'unità attraverso il dialogo e la discussione. Questo è il modo di interagire nella nuova Terra e diventerà la modalità predominante della vita politica in una Terra risvegliata di quinta dimensione. Ma la cosa più importante è che il potere reale di determinare il percorso futuro della Terra sta passando nelle mani del Consiglio dei Custodi della Terra e del Consiglio degli Anziani. Questi ultimi sono chiamati e scelti nelle dimensioni superiori ed hanno accesso ai Consigli Solari e Galattici. Gli anziani non sono di immediata comprensione per chi si trova in una società di quinta dimensione non è semplice comprendere. La loro natura sono multidimensionali, possono accedere alla coscienza superiore, creare e manifestare in base alla volontà divina, che si esprime nella vostra galassia della rosa d'oro che sta nascendo e si sta formando ora. La Terra prende il suo posto proprio come voi mentre sentite l'invito ad accedere a forme superiori di coscienza e leadership della Terra. Diventate consapevoli delle vostre nuove connessioni al vostro Sole Risorto, che noi ora chiamiamo Solaris. Il Consiglio di Ottava Dimensione di Solaris unifica i Consigli Planetari del vostro Sistema Solare e si collega con i Consigli Stellari e Galattici. Quindi si collegherà con i Consigli di Nona Dimensione della Galassia della Rosa d'Oro, Rosa Dorada, il nuovo nome per la vostra galassia d'oro che si sta formando ora ed era precedentemente nota come Via Lattea. Con queste strutture al proprio posto la Terra scende nella sua nuova orbita come il pianeta Stella Blu, il primo pianeta nella galassia a raggiungere uno stato pienamente multidimensionale e ad essere governato da un Consiglio dei Custodi della Terra ed anziani. Questi vengono eletti dalle loro comunità d'anima a livello superiore per la loro saggezza, impegno e coraggio. Infatti, amati, c'è molto entusiasmo in quanto queste nuove strutture sono state posizionate e collegate con le griglie della nuova Terra. Sappiamo che molti di voi pensavano che gli esseri di luce sarebbero scesi sulla Terra, ma diciamo che siete voi che salirete per incontrarvi con gli esseri di luce nei Consigli Solari e Galattici e prenderete il vostro posto come parte della Galassia d'Oro. Inoltre farete anche parte della Società della Terra sul piano materiale, pronti a dare il vostro contributo e gioire nella nuova Terra, che sta nascendo. Noi festeggiamo poiché la Terra non è più un bambino affidato ai Siriani, ai Pleiadiani e dagli Arturiani. Ora la Terra è un essere stellare pienamente maturo e indipendente, che rappresenta l'energia di Solaris nella Galassia della Rosa d'Oro. Draghi e Delfini. Amata famiglia di luce, mentre iniziate questa fase di connessione e di riconnessione, avrete anche intensi collegamenti con l'energia del risveglio dei draghi e dei delfini maestri. Questi due gruppi di esseri di luce sono particolarmente focalizzati su questi allineamenti del 2012 e sono pienamente disponibili a collaborare con quelli di voi che sono pronti. In primo luogo, nella sesta dimensione incontrerete e vi riconnetterete con l'energia del drago. I draghi sono portatori delle dimensioni superiori del fuoco cosmico o angeli di fuoco. Questa è un'energia elementale molto semplice ma potente che si potrebbe definire energia nucleare in termini scientifici, il fuoco base, che mantiene la matrice olografica in posizione. I draghi erano i primi portatori di energia cosmica ed erano vostri antenati. Hanno respirato il fuoco perché erano espressioni del fuoco cosmico stesso. Quando risvegliate il drago di fuoco, vi riconnettete con la capacità antica di lavorare con il fuoco cosmico per la co-creazione con il divino. Quando vivete nella paura dell'energia del drago, questa si posiziona nel vostro lato oscuro e può emergere in modo distruttivo come esplosioni di fuoco piuttosto negative. Questo accade su larga scala quando gli esseri umani vanno in guerra e lanciano fuoco gli uni sugli altri sotto forma di armi, in particolare armi nucleari, che sono l'uso finale negativo del fuoco del drago. Questo è quanto è successo quando gli esseri umani si sono avvicinati al fuoco del drago da un punto di vista scientifico ed hanno cercato di sfruttarlo per scopi negativi. Infatti, gran parte del presente conflitto in Medio Oriente si basa sull'uso del fuoco del drago per la guerra e su chi dovrebbe avere il diritto di accedere a questo potere. Gli stessi draghi si sono evoluti e non desiderano più essere utilizzati per scopi negativi, desiderano ricongiungersi con l'umanità e si offrono al servizio della pace. Storicamente, il rapporto con i draghi è stato basato sulla paura, portava abusi e distruzione. Nel mondo tridimensionale, dove la percezione è basata sulla dualità, i draghi erano temuti, combattuti e vinti. Nella nuova terra di quinta dimensione riconoscete la polarità all'interno dell'unità e così i draghi possono riemergere mentre vi spostate nella maestria e nelle dimensioni superiori. Nella maestria potete diventare cavalieri dei draghi, dirigere il fuoco del drago con la coscienza ed usare questo potere per manifestare e creare il bene più alto secondo il piano divino. Questo è il modo in cui l'energia del drago desidera entrare in contatto con gli esseri umani e non nel modo scientifico dove l'energia viene imbrigliata ed utilizzata senza alcuna comprensione del rapporto sacro tra lo spirito, i draghi e gli esseri umani. Il secondo gruppo di esseri di luce è quello dei delfini maestri angelici, che sono l'espressione superiore dell'energia dei cetacei barra delfini della Terra. Essi provengono dal centro galattico o grande sole centrale, attraverso Sirio e le Pleiadi. Il loro scopo è, ed è sempre stato, quello di guidare l'evoluzione delle specie sulla Terra, in particolare le specie emergenti umane angeliche. I cetacei sono maestri di ingegneria olografica e sono presenti per offrire la loro collaborazione o ovunque ci sia bisogno di un grande cambiamento evolutivo o ricalibrazione. Anche quando la Terra scende al nuovo ed indipendente ruolo nel sistema solare e nella galassia, i maestri delfini continuano a collaborare a questo processo di nascita. I delfini maestri e gli angeli incarnano la coscienza del Cristo cosmico. Essi fluiscono con l'energia dorata del Cristo cosmico, ma incarnano anche i raggi turchese e magenta dell'amore di Cristo. L'energia dei maestri delfini è espressa nella danza, nella musica e nella gioia. È luce fluida e scorrevole, bella e armoniosa. Quando incarnate l'energia dei delfini maestre diventate come loro, fluidi, eleganti, gioiosi e capaci di reagire con grazia e velocità. Siete in grado di muovervi con il flusso, non cambiare direzione quando si è nel flusso diventa un problema. Con l'aiuto dei draghi e dei delfini maestri angelici, il fuoco della creazione e l'evoluzione delle specie sulla Terra saranno ancora una volta allineati con la volontà divina e l'intelligenza creativa divina. Questo farà sì che queste energie saranno utilizzate solo per uno scopo superiore nella nuova Terra. L'equinozio di marzo come punto di equilibrio. Con tutti questi cambiamenti, riconnessioni e ricalibratura è probabile che sentirete alcuni degli effetti di queste onde nelle differenti dimensioni. In primo luogo, amati, potete sentire un senso di distacco, come se ciò che prima era importante ora non lo è più. Oppure progetti, che sembravano andare per il verso giusto senza intoppi potrebbero improvvisamente avere una battuta dal resto. Inoltre, potreste scoprire che anche le relazioni e le amicizie soffrono di una pausa simile e di una disconnessione. Questo è semplicemente un aspetto dei cambiamenti enormi, che stanno avvenendo. Potete essere certi, che in poche settimane le cose fluiranno ancora una volta senza problemi. Lo stesso equinozio sarà un punto di equilibrio per voi e la vostra vita. Rappresenterà un momento in cui sarete in grado di trovare equilibrio interiore e pace e sarete in grado di ricollegarvi al nuovo flusso della vostra vita. Molti di voi troveranno nuove direzioni e nuovi percorsi mentre entrate nei vostri nuovi ruoli, in particolare quelli di voi che lavoreranno con i consigli dei custodi della Terra e di consigli degli anziani. Parlando del corpo fisico, si possono presentare anche alcuni sintomi. In passato i sintomi si sono fatti sentire soprattutto a causa del cambiamento del centro ed equilibrio dal plesso solare al cuore. Ora, come entrate in questa nuova fase, vi accorgerete che il corpo fisico sta diventando più leggero, più luminoso e meno pesante. In questa fase potete sentirvi molto tristi nel vostro corpo, potete sentirvi esausti e potete avere difficoltà a dormire. Potete anche avere difficoltà con il cibo e ricercare cibi che si allineano con la nuova percezione del vostro corpo fisico. Anche questo passerà, amati, mentre vi abituate alla natura più leggera del vostro corpo multidimensionale. presto, vi sentirete pieni di energia e pronti per le nuove opportunità e le sfide che si presenteranno verso metà dell'anno mentre vi spostate verso la Porta del Leone, alla fine di luglio. Vi auguriamo tanta gioia ed amore nelle prossime settimane e mesi e festeggiamo con voi la manifestazione della nuova Terra. Celia Fernand Starkield Global Tradotto da Michela per Stazione Celeste Tradotto da Michela per Stazione Celeste